I primi tre mesi sono stati la quiete prima della tempesta. E se fossi stato un saggio capoindiano, probabilmente avrei sentito la tempesta arrivare. Mi ami? Sei incinta? Sì. Abbiamo concepito Pietro in un periodo luminoso della nostra vita. Ma la notizia è strepitosa? Noi facciamo un altro figlio, eh! E sticcazzo! C'era proprio bisogno di fare un altro figlio. Pietro porterà equilibrio. Andrà tutto bene? Sì. I genitori sono soli e non c'è nessuno che li aiuta veramente. Vaglia! Ma davvero Dio l'ammazzo, eh! Che stavo a dire? La risposta a tutti i problemi era una sola. Giusefina. Giusefina è simpatica, adora i bambini, i bambini la adorano. Giusefina ha un unico grande problema. Non esiste. Al suo posto una serie di babysitter improbabile. Adori papà senza barba. Non si può fumare? Ci riesce a stare un giorno con il piccolo? Io ho bisogno di respirare. Scusa se mi rompo il culo per non affondare qua. Dime che cosa hai fatto oggi. Dì, la mattina ho fatto la la pasta piccola. Ma vaffanculo. Lui è ciò che voi siete. Quindi sarà quello che voi decidete di essere. Se tu non fai cazzate e rimaniamo uniti, vedrai che la suggeriamo. Dimelo ancora che andrà tutto bene. Andrà tutto bene. E ho già avuto un'esperienza come babysitter. Il bambino aveva 16 anni e l'ho aiutato a uscire dal giro della droga. Il bambino aveva 16 anni e l'ho aiutato a uscire dal giro della droga.